Verra e propria gemma nascosta nella sezione Marvel a disposizione degli abbonati della piattaforma Disney+, Legion è una serie in tre stagioni per 27 episodi ciascuno della durata di 55 minuti. La mente dietro a quest'opera complicata e affascinante è Noah Hawley, talentuoso showrunner, autore tra l'altro di Fargo, una serie strepitosa di cui ci siamo già occupati qui su Mondoserie.it. Il carattere più originale di Legion nasce dal fatto che pur partendo dal materiale più semplice e limitato al mondo, cioè una storia di supereroi, riesce a confezionare una perla stilistica con pochi uguali e soprattutto un modo inedito per affrontare temi quali il rapporto tra bene e male, la necessità di una vita fatta di relazioni sociali, i traumi dell'infanzia e il pericolo di vivere in un mondo illusorio non più a contatto con la realtà. Il trentenne David Haller, sin da ragazzo, è aggressivo e problematico e dopo un tentativo di suicidio viene addirittura rinchiuso nella clinica psichiatrica Clockwork sotto costante sedazione. Per il nostro protagonista le giornate sembrano scorrere monotone in compagnia della luciferina amica Lenny, almeno sino all'arrivo di Sidney, ragazza con la fobia del contatto fisico. David si innamora immediatamente, ma l'unione tra i due scatena i rispettivi poteri latenti, innescando una serie di reazioni a catena che portano il caos nella struttura e nelle vite dei protagonisti. David, infatti, è un potentissimo telecineta, mentre Sid è in grado di scambiare la mente con le persone che tocca. Man mano che la storia prosegue, il piccolo mondo del manicomio si apre sempre di più con l'arrivo di altri esseri superumani, una divisione del governo che ne studia l'utilizzo, un temibilissimo avversario e il pericolo di distruzione per l'universo intero. Anche se ci rimane il dubbio che sia tutta una fantasia del suo allucinato protagonista. Legion è un personaggio creato per la Marvel Comics da Chris Claremont, vero artefice delle fortune della serie X-Men, che ha trasformato da una storia di scazzottate tra teenager a una narrazione di successo sorretta da introspezioni psicologiche, dialoghi altamente drammatici e archi narrativi complessi e spesso tragici. David Haller è niente meno che il figlio naturale di Charles Xavier, il fondatore degli X-Men, il telepati in carrozzina, e di Gabrielle Haller, giovane rimasta traumatizzata in seguito alla reclusione in un campo di concentramento e risvegliata dai poteri del professor X. L'unione dei due porta la nascita di questo superumano potentissimo ma che al tempo stesso è preda di personalità multiple che ne infestano la mente come uno sciame di parassiti. David è telecineta, telepate, pirocinetico e chissà quante altre cose, ogni potere e dono o maledizione portata dalle differenti personalità che lo abitano proprio come i diavoli che albergano nell'indemoniato dei Vangeli che si chiama per l'appunto Legione. La Marvel non ha mai saputo sfruttare abbastanza le potenzialità di questo personaggio troppo complesso e troppo scomodo. David è la prova vivente delle macchie di uno dei suoi eroi più iconici perché oltre ad aver avuto un rapporto con una sua paziente Xavier ha abbandonato il figlio. Punto decisivo nella lettura che Howley dà alla figura di Legion. Claremont e il disegnatore Bill Sinkajewicz che volevano creare un cattivo che fosse un'anomalia hanno scelto un ragazzino dall'aspetto innocente e con una storia con cui empatizzare che poi potesse rivelarsi terribilmente pericoloso. A detta dei suoi creatori, Legion rappresenta una perfetta metafora di cosa significhi attraversare la pubertà e l'adolescenza in generale per venire a patti quegli imperativi assoluti e oscuri che si agitano dentro di noi. Howley prende tutte queste caratteristiche e le porta in un adulto spezzato instillando subdolamente il dubbio che quella che stiamo vedendo non sia la realtà ma la soggettiva del suo interprete principale. Legion utilizza il narratore inaffidabile. Una tecnica fondante di opere come Mr. Robot e come abbiamo fatto notare sempre qui su Mondo Serie della splendida strappare lungo i bordi di Zero Calcare. A differenza di queste due opere però non ci troviamo di fronte a una narrazione in prima persona cioè non è di David la voce narrante anche se dobbiamo considerare di essere in presenza di un uomo affetto da personalità multiple. L'apparente confusione narrativa in cui ci proietta la serie rispecchia lo stato mentale di David, la sua visione del mondo distorta e la realtà percepita si piega alla sua visione in quanto essere più potente del pianeta. Questa distorsione incombe anche sulla narrazione dei fatti. Ognuno di noi tende a vedersi come l'eroe positivo della storia in cui è protagonista. Ma se nella realtà non fosse così? Questa è l'illusione dei narcisisti che credono di essere gli unici reali, che i loro sentimenti siano i soli a contare perché le altre persone sono solo ombre. Il punto di vista di David non è sostenuto da un monologo quanto dal fatto che ogni minuto della serie rappresenta il suo punto di vista un'opera figlia di una visione precisa costruita dal suo showrunner in ogni minimo dettaglio in cui i personaggi come in un sogno ognuna allucinazione si scambiano di aspetto e di ruolo. La prima stagione è una domanda continua. Un castello costruito e distrutto a ogni puntata in cui ogni nuovo elemento messo in gioco annulla le convinzioni dello spettatore. Mai in una serie il riassunto delle puntate precedenti è sembrato più inutile. Hawley sembra godere fortemente nell'intricare la narrazione, nello sconvolgere ragione e memoria dello spettatore. Se la prima stagione è destabilizzante, poi la seconda è disperante. Ogni presupposto lineare narrativo cade, le informazioni si fanno sempre più frammentarie e contraddittorie, i personaggi sono involucri che incarano concetti opposti tra di loro e persino quei passaggi che avrebbero la funzione esplicativa non fanno altro che confondere le acque. Legion ci stordisce con una pioggia continua di immagini, simboli, metafore. Il nostro cervello di spettatore va in overdose. Laddove la serie o il cinema d'autore come quello di Lynch o di Winding Refn scelgono decelerazione e rarefazione, Hawley sovraccarica e satura. A metà della seconda stagione la nostra mente va in tilt. Verrebbe la voglia di mollare tutto e mandare al diavolo Hawley, Haller, Sid Barrett e tutti gli improbabili protagonisti di questa folle messa in scena. Poi, all'improvviso, un click, uno scatto. Come quando impari una lingua e non hai più bisogno di tradurre le parole nella tua mente? Legion a un certo punto la accetti. Ti sembra normale? Parla una lingua che è dentro di noi e diventati ormai cittadini di una terra ambigua in cui ogni oggetto nasconde un significato, possiamo godere appieno dei suoi molteplici meriti. La terza stagione è magnifica. Zeppa di scene memorabili, soluzioni registiche inediche e i Time Eaters, villain fenomenali nel design e nella resa. Ma tutti i personaggi sono caratterizzati magnificamente sorretti nella recitazione da un cast eccellente. Ognuno di essi, poi, è la manifestazione fisica di un preciso disturbo mentale. Sidney è affefobica, ovvero ha il terrore del contatto fisico. Carrie ha uno sdoppiamento delle personalità e il suo alter ego è una ragazza savant. Melanie vive ossessionata dall'abbandono del compagno Oliver, che a sua volta ha deciso di rifugiarsi nel piano astrale, ovvero di estragnarsi dalla realtà. L'ambiguo Clark è il doppio volto della cura, mentre Eptonomy, con la sua incapacità di dimenticare qualunque cosa, è il rimorso continuo e il desiderio dell'oblio. Eptonomia, poi, indica quella particolare connessione che si crea tra i genitori e i nascituri tramite i movimenti percepiti in grembo. Ulteriore indizio che la serie ruota attorno ai traumi della nascita e della crescita. E poi il re delle ombre, che, attingendo direttamente dal mito della caverna di Platone, rappresenta il mondo narcisista delle realtà illusorie. Lenny è il lucignolo della situazione, ma la sua personalità diventa ancora più ambigua quando si pone in rapporto con la sorella di David, Amy. Ma siamo sicuri, poi, che questa Amy esista davvero? Insomma, siamo sicuri che Lenny e Amy non siano due manifestazioni dello stesso David, una protettiva e l'altra distruttiva. Infine, David, ovvero la personalità orale, ovvero quella fase dell'infanzia che permane come bisogno anche nell'età adulta, manifestazione tipica delle persone scarsamente indipendenti e bisognose di attenzione. La personalità orale è caratterizzata da un forte narcisismo, è concentrata solo su se stessa e con gli altri ha un rapporto non equo, ma vampiresco. In altre parole, pur se si pone come eroe, come protettore, David ha un rapporto psicologicamente cannibalisco con le persone che gli stanno attorno. Legion è una serie che per svelarti un nuovo mondo, prima ti cattura, poi ti confonde, ti imprigiona. E infine, quando ti sei purificato di tutti i concetti come linearità e coerenza, si rivela una metafora del trauma della crescita e dell'incapacità di reggere le pressioni sociali. Nella confezione, poi, è uno spettacolo per gli occhi, con un'estetica ispirata evidentemente ai telefilm di fantascienza anni 60 e 70. Scenografie di design, vestiti pastello esaltati da una fotografia satura e ogni inquadratura che ha come modello di riferimento, con le dovute differenze, il Kubrick di Arancia Meccanica 2001. La manifestazione dei poteri, poi, in controtendenza a quanto accade nei cinecomics attuali, è ottenuta non con la computagrafica, ma grazie a virtuosismi registici e di montaggio. Questa serie si rivela unica e preziosa perché è, prima di tutto, una serie d'autore, in cui la visione e la storia contano più di muscoli e raggi laser. Infine, la musica. Un altro dei fattori fondamentali per godere di quest'opera. L'inizio della serie si apre in maniera eccellente sulle note di Happy Jack degli Who, mentre una carrellata di nefandezze compiute da giovane David ci fa già capire che questa storia non sarà semplice da seguire. Il design dei Time Eaters deriva dai Blue Minis di Yellow Submarine. Sidney, la coportagonista femminile, fa di cognome Barrett e non è solo un omaggio al maledetto dei primi Pink Floyd, padrino di tutta la psichedelia. Sid Barrett è il folle a cui è dedicato tutto Dark Side of the Moon, l'album che Hawley ha usato assieme a Quadrofinia degli Who come punto di riferimento per la scrittura di questa serie. Le composizioni originali sono ad opera di Jeff Russo che per addentrarsi nel mood dell'opera ha prima letto il saggio Allucinazioni di Oliver Sacks. Oltre ai brani originali sono presenti anche interessanti riletture dei classici del rock. Memorabile il duello tra David e il re delle ombre in cui i due duettano sulle note di Behind Blue Eyes. Il rapporto tra musica e immagini in Legion è talmente ben costruito che una semplice ricerca su YouTube vi aprirà un mondo di scene memorabili che vi consiglio di guardare solo dopo che avrete finito la visione della serie completa. Legion è una serie intrisa di cultura pop che dietro a un prodotto stilisticamente impeccabile nasconde una storia insidiosa che ti porta a spasso e ti abbandona sul ciglio della strada in stato confusionale. Ma se vi saprete abbandonare al suo flusso di coscienza vi porterà in posti che non riuscirete più a togliervi dalla testa. Letteralmente.